e' una cosa, i maestri ci mandavano in giro per impararci i numeri, ci facevano stecchette di legno, ci mandavano i gambi a fare stecchette di legno così e ci facevano imparare i numeri, una, due, così beh, è divertente, è divertente ti rimane pure in mente, adesso io non per dire qualcosa, se io ho visto a piedi qualcuno, a volte ti chiede 5 per 8, quant'è che fa? ci mettono un po' di tempo prima che ci arrivi, dopo 3 per 6, via di abbellina, a noi poi dietro al quaderno della prima, della seconda, c'è proprio a tabellina e ben dietro ci facevano studiare con questi numeri, è una cosa che poi, almeno, o adesso è la cosa più moderna, non ti devi calcolatrici, ma purtroppo lei aveva una maestra o un maestro? c'è un po' di un periodo la maestra, poi poverina se ne andate, c'è, è stato pure un maestro, però di soldi era sempre la stessa ti prendevano la prima e andavano in fine in quinto, è sempre la stessa professoressa signora maestra, signora maestra, come passava la mattinata a scuola? io a scuola, scuola, ero a camera, scuola andava proprio male, male, beh, era una cosa che io mentre andavo a scuola stavo male, io stavo proprio male quando andavo a scuola tante volte venivo a mia madre, me ne prendo, la cosa di amare, io non si sento bene, venivo proprio alla nausea, mi pesco però, dovuto andare avanti per motivi per la cosa erano che adesso lavora in una scuola? eh? cosa erano che adesso lavora in una scuola? eh vabbè, c'è tutta un'altra musica, vedi, caffè, cappuccino fantastico, senta, quindi ha fatto gli elementari, poi ha fatto le medie le medie, poi mi sono fermato, siamo andati troppo su, non era, non era, io sono sempre del parere chi non è portata da scuola, deve andare a lavorare, si deve fare in modo di lavorare grazie